Questo jingle dichiara la chiusura della consegna ufficiale della gran domanda che ripercorriamo insieme La Gcom ha multato il Tg1 per le interviste fiume del premier Lei col canone preferirebbe pagare le multe di Minzolini o la buona uscita di Minzolini Ha risposto alla buona uscita di Minzolini il 98% delle persone che hanno scelto di votare Trattasi quasi di plebiscito Ma io non ti lascio, cara Angela, prima di averti fatto qualche domanda idiota